ciao a tutti siamo anna e otto e oggi vi voglio parlare di due piantine stagionali che sono i gerani e le sulfine sono piante che si possono mettere sui nostri balconi sui nostri terrazzi e si possono fare anche macchie nel nostro giardino c'è il geranio zonale che ha questo portamento eretto il geranio a edera che come vedete ha queste meravigliose foglie verdi a forma di edera e c'è il parigino che quando sarà tutto fiorito sarà una macchia di colore rosso con tantissime foglie verdi la sulfine è questo fiore con questo portamento cadente e la petunia che invece a differenza della sulfine sembra lo stesso fiore ma ha questo portamento che sembra un cuscinetto e non scende per curare queste piante ci vuole un terriccio adatto io uso il terriccio flora per composti specifico per tutte le piante fiorite lo trovate in tutti i garden center rivendite specializzate esiste anche un formato pratic molto piccolo e maneggevole otto mostriamo come fare una balconetta con i nostri gerani sei d'accordo non si sa però io ve la mostro lo stesso prendiamo una balconetta prepariamo i nostri gerani da trapiantare prendiamo dell'argile espansa e facciamo la base a questa balconetta l'argilla serve per il residuo di eccesso di acqua mettete più o meno due o tre centimetri alla base prendiamo il nostro terriccio specifico flora e cominciamo a mettere un po di questo terriccio prendiamo la nostra pianta togliamo un po di radici per far sì che possa rigettare subito e la mettiamo la base di questa balconetta stessa cosa facciamo con l'altro cerchiamo di dare una posizione ai nostri gerani ci mettiamo dell'altro terriccio e cerchiamo di coprire tutti gli spazi vuoti che si sono formati dopodiché se con il terriccio specifico continuerete a concimare periodicamente annaffiare i vostri fiori splenderanno per tutta l'estate la balconetta vi ringrazierà